Musica Trovato senza vita, 56enne scomparso a Di Pignano. Sono terminate questa mattina le ricerche del 56enne di Di Pignano scomparso dalla giornata di ieri 19 giugno. Dopo l'attivazione del piano provinciale per la ricerca del persone scomparse della Prefettura di Cosenza, il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria CNSAS è intervenuto su richiesta del Comando Stazione dei Carabinieri di Di Pignano. Sul campo, tecnici della Stazione Alpina Sila Camigliatello del CNSAS Calabria hanno perlustrato insieme ai tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza SAGF della Stazione di Cosenza e al personale dei Vigili del Fuoco di Cosenza un'area collinare boschiva nel Comune di Di Pignano. Durante una battuta di ricerca, l'uomo è stato trovato senza vita dai Vigili del Fuoco. A recuperare la salma sono stati i tecnici del CNSAS Calabria, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Presenti sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Di Pignano. Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria si unisce al dolore dei familiari. Si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere. Polizia e Vigili del Fuoco salvano un uomo al reggio. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato hanno salvato un uomo di 48 anni che si era barricato all'interno della propria abitazione con una bombola di gas aperta, minacciando di far saltare in aria l'intero edificio. Grazie a una segnalazione pervenuta sul numero d'emergenza, gli operatori dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno raggiunto tempestivamente il luogo indicato dal quale si propagava sempre più intenso l'odore di gas. Constatata la gravità della situazione, gli agenti delle volanti unitamente personale dei Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area, agevolando l'evacuazione degli altri residenti e la rimozione dei veicoli in sosta, facendo accesso poco dopo, nonostante l'elevato rischio, all'interno dell'abitazione del 48enne. Al termine di una complessa azione di convincimento posta in essere dagli operatori, l'uomo, seppur in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato salvato e affidato alle cure dei medici del 118. Irregolarità in cantiere edile a Petrizi, i carabinieri sanzionano il titolare. I carabinieri hanno effettuato dei controlli su un cantiere edile a Petrizi per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Militari della locale stazione Carabinieri, con il supporto del personale specializzato del Nuglio Ispettorato del Lavoro, dei Carabinieri di Catanzaro e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro del medesimo capoluogo, hanno effettuato un accesso di controllo ad un cantiere edile, rilevando diverse irregolarità. Nei lavori di splateamento, sbancamento, in itinere, le pareti delle fronti di attacco non avevano un'inclinazione tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Inoltre, dalle verifiche compiute è emerso che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie non avvenivano correttamente e l'assenza delle condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, il tutto in netto contrasto con le norme sulla sicurezza del lavoro. L'attività del cantiere è stata sospesa con decorrenza immediata per le grave infrazioni riscontrate. Al titolare dell'impresa, una 22enne della zona, è stato prescritto di procedere alla messa in sicurezza del cantiere, con contestazione delle infrazioni a norma del decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, con un ammontare complessivo di oltre 12.000 euro. Contrasto del lavoro nero, guardia di finanza scopre ristorante con lavoratori irregolari a Davoli Marina. Nei giorni scorsi i finanzieri della compagnia di Soverato hanno individuato un locale situato a Davoli Marina nel quale sono stati impiegati numerosi lavoratori, dieci nello specifico tra cuochi e personale di sala, non legittimamente assunti e peraltro non abilitati alla trasformazione e al servizio dei cibi. Prosegue infatti il piano dei controlli effettuati da parte dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, volti a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare o in nero. Le attività ispettive sviluppate in maniera trasversale hanno consentito di mettere a sistema molteplici elementi informativi derivanti dalla costante attività dell'intelligence e di controllo economico del territorio, nonché dai database a disposizione del corpo. La Guardia di Finanza, unica forza di polizia sul territorio nazionale, a rivestire la qualifica di polizia economico-finanziaria con l'arrivo della stagione estiva e l'aumento dei flussi turistici nel Soveratese e dintorni, proseguirà ed intensificherà le proprie attività di controllo a tutela dei lavoratori, affinché i servizi a disposizione della popolazione siano effettivamente offerti da addetti ai lavori, opportunamente qualificati, che possano godere delle previste garanzie assistenziali e previdenziali. Ruba auto di una donna che stava parcheggiando, arrestato a Reggio Calabria Ha avvicinato una donna che stava parcheggiando la propria automobile e dopo averla spintonata le ha sottratto il veicolo, dandosi poi alla fuga. Un 21enne, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Reggio Calabria con l'accusa di rapina. Il fatto è accaduto domenica. Raccolta la segnalazione, sono scattate le ricerche che hanno consentito poco dopo a due pattuglie dell'arma di individuare e fermare l'uomo sorpreso in Viale Calabria mentre percorreva contro mano l'arteria a bordo del mezzo rubato poco prima la donna. Il 21enne è stato arrestato e sottoposto alla misura dell'obbligo della presentazione alla Polizia Giudiziaria. Corigliano Rossano, bus dell'agrario preso di mira dai vandali e dato alle fiamme. Potrebbe essere stato un atto a solo scopo vandalico e dimostrativo quello capitato stanotte all'esterno dell'Istituto Agrario di Contrada Frasso a Corigliano Rossano. Nei pressi della struttura da qualche mese e in fase di ristrutturazione è parcheggiato un vecchio autobus ormai in disuso di proprietà dell'autorità scolastica che è stato dato alle fiamme. Da subito è stata esclusa la matrice estorsiva dell'accaduto mentre gli inquirenti propenderebbero più sull'ipotesi vandalica. Addirittura, ma di questo non c'è conferma, l'azione potrebbe essere inquadrata come una bravata. Ma su questo, dicevamo, saranno i carabinieri del gruppo territoriale di Corigliano Rossano guidato dal Maggiore Marco Filippi a dare più dettagliati riscontri. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco dell'istaccamento di Rossano che hanno spento le fiamme. Abbandonavano rifiuti per strada a Scalea e San Nicola Arcella, tre persone denunciate. Abbandonavano rifiuti per strada cercando di eludere ogni tipo di controllo è andata male a tre persone di Scalea che dovranno rispondere di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Sono stati militari della stazione carabinieri forestali di Scalea a individuarli grazie a un'attività investigativa capillare scaturita dai contini abbandonati su strada nei comuni di Scalea e San Nicola Arcella di materiale proveniente da piccoli lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria di appartamenti. In numerosi casi di abbandono dei rifiuti si è accertata la presenza di un furgone bianco con a bordo tre persone che ha insospettito i militari. Le indagini hanno poi confermato i sospetti dei carabinieri forestali che nei giorni scorsi hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo su disposizione dell'autorità giudiziaria di Paola del furgone a carico del proprietario dello stesso veicolo al fine di evitare la libera disponibilità dello stesso del bene. Tutti e tre i soggetti individuati quali responsabili dell'attività illecita sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria perché in concorso tra loro, in diverse circostanze a bordo del furgone di proprietà di uno di essi effettuavano un'attività illecita, trasportando rifiuti pericolosi e non al fine di abbandonarli per strada. La Mezzia, crollato palo dell'illuminazione pubblica su Corso Nomistrano Nel pomeriggio del 19 giugno un palo dell'illuminazione pubblica di Corso Nomistrano è caduto. Per fortuna al momento del crollo non passava nessuno così come nessuna macchina era parcheggiata proprio nel punto in cui il lampione è crollato. Probabilmente il palo arrugginito, alla base, non ha retto. Non è inoltre la prima volta che accade un episodio del genere. Nel giugno del 2018 un altro lampione era crollato, urtando un'auto parcheggiata anche in quell'acquazione per fortuna non passava nessuno. La Mezzia, scarpe contraffatte in modo troppo grossolano, ambulante assolto da ogni accusa. Scarpe contraffatte in modo talmente grossolano da non poter indurre alcuna a pensare che fossero originali. In sostanza, con questa motivazione è stato assolto da ogni accusa un uomo di origine marocchine di 44 anni che nel 2015 era stato sottoposto a un controllo dei carabinieri dal momento che sulla sua bancarella a Soveria Mannelli aveva esposto diverse paia di scarpe falsamente di marca Nike e Converse. Da qui ne è scaturito un procedimento penale nel corso del quale l'ambulante è stato assistito dall'avvocato Sergio Vescio e che si è chiuso con una sentenza di assoluzione per l'uomo con la motivazione per cui il falso grossolano è quello che si presenta così evidente da risultare idoneo ad ingannare chi che sia ed è inoffensivo rispetto al bene della fede pubblica proprio per l'idoneità a trarre in inganno la collettività. Lamezia assolto dall'accusa di aver usato l'auto sottoposta a fermo Il Tribunale di Lamezia ha assolto oggi un uomo di 78 anni dall'accusa di essere messo alla guida della propria auto nonostante il mezzo fosse sottoposto a sequestro amministrativo dopo una violazione del codice della strada. Il Tribunale di Lamezia ha accolto la richiesta del difensore Domenico Folino sostituto per delega dell'avvocato Anna Muraca che ha discusso. Ha assolto l'imputato in seguito anche alla richiesta di assoluzione del PM Lamezia, residenti esasperati, di notte nell'area mercatale schiamazzi, corse in moto e musica ad alto volume Siamo esasperati, la notte per noi è diventato un appuntamento con il caos rumori molesti di ogni genere, musica ad alto volume, schiamazzi, corse in moto il tutto fino quasi all'alba A parlare un gruppo di residenti nell'area mercatale, nel cuore della città Denunciano una condizione di sostanziale invivibilità che si materializza la notte, prima nei fini settimana e ora con l'inizio della bella stagione, anche durante la settimana Sotto accusa le giovani generazioni I tanti ragazzi che si riuniscono nella zona parcheggio e a ora tarda stazionano lì mettendo in scena, secondo i residenti, un grave e ripetuto disturbo nei confronti delle famiglie Abbiamo segnalato ripetutamente la nostra condizione a tutte le autorità ma siamo arrivati ormai oltre il limite della tollerabilità Più volte noi stessi ci siamo affacciati per chiedere rispetto ma non abbiamo ottenuto alcun risultato La notte i ragazzi si ritrovano sotto le nostre case producendo ogni tipo di rumore schiamazzi, avvolti risse, musica ad alto volume, gare fra motorini il tutto fino alle 3-4 di mattina Comprendiamo il desiderio di evasione dei ragazzi ma noi tutti abbiamo diritto al riposo a trascorrere la sera e la notte in serenità e invece, soprattutto nei fini settimana, la notte si trasforma in un incubo Chiediamo che le autorità possano intervenire al più presto per riportare minime condizioni di vivibilità Tar Lazio conferma lo scioglimento del comune di Soriano Calabro Nessuna illegittimità nella procedura che nel giugno dello scorso anno portò allo scioglimento del comune di Soriano Calabro per presunti condizionamenti della criminalità organizzata L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall'ex sindaco, dall'ex presidente e vicepresidente del Consiglio Comunale e da ex consiglieri comunali Secondo il Tar, i numerosi elementi riportati nelle relazioni a sostegno dell'esistenza di un condizionamento dell'apparato amministrativo del comune da parte di soggetti collegati alla criminalità locale la cui sussistenza non è stata efficacemente contestata con le censure formulate evidenzia in un quadro probatorio ampiamente idoneo a supportare le determinazioni impugnate Nel caso specifico, infatti, la relazione prefettizia poi recepita dal provvedimento di scioglimento ha riportato una serie di vicende significative di una notevole interferenza nella gestione della cosa pubblica da parte di soggetti collegati alla locale criminalità organizzata e gli elementi raccolti suffragano ampiamente l'assunto della sussistenza di forti condizionamenti degli apparati politici e amministrativi del comune di sciolto da parte della criminalità integrando quegli elementi concreti ed univoci che supportano la determinazione di scioglimento alla fine per i giudici le contestazioni contenute nel ricorso si palesono idonee a confutare le valutazioni operate dall'amministrazione poiché non elidono gli elementi sostanziali che emergono da quanto riportato incentrandosi sull'ipotetico diverso significato o l'irrilevanza di alcune circostanze che però non possono essere riguardate singolarmente ma devono essere apprezzate con riferimento al contesto delineato da ciò il fatto che il provvedimento di scioglimento in esame deve ritenersi pienamente legittimo nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia essendo stata correttamente evidenziata la presenza di contatti ripetuti e collegati alle scelte gestorie dell'amministrazione comunale degli organi di vertici politico-amministrativo con soggetti appartenenti alla criminalità locale e la completa inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori pubblici servizi del comune Sei trapianti di rene in quattro giorni al GOM di Reggio un risultato straordinario Sei trapianti di rene di cui due da donatore vivente con tecnica robotica sono stati eseguiti in quattro giorni nel grande ospedale metropolitano GOM di Reggio Calabria Lo straordinario risultato ottenuto è detto in un comunicato dell'ospedale è il frutto del grande impegno profuso dalle due equip mediche delle unità operative di urologia e chirurgia generale dirette rispettivamente dal Edoardo Sgro e da Salvatore Costarella coadiuvati dagli anestesisti Tania Franco e Loredana Panzera alla presenza di Lucrezia Furian del centro trapianti dell'Università di Padova Le equip si sono trovate a lavorare in contemporanea e con grande sinergia nell'attività di prelievo e trapianto degli organi La complessa attività coordinata e gestita dal direttore del centro regionale trapianti Pellegrino Mancini è stata possibile grazie anche alla generosità e all'altruismo dimostrati dai familiari di pazienti deceduti in terapia intensiva all'annunziata di Cosenza e al GOM di Reggio Calabria che hanno acconsentito alla donazione degli organi dei loro cari Importante il coinvolgimento del responsabile Unità Operativa Trapianto Renale Francesco Cambareri afferente a quella di nefrologia e trapianti renali diretta da Francesca Mallamaci nonché dalla case manager Stefania Ficara Estremamente prezioso è stato anche il contributo dell'Unità Operativa di Terapia Intensiva post-operatoria diretta da Massimo Caracciolo e di quella di Terapia Intensiva diretta da Sebastiano Macheda In riferimento ai trapianti di rene da donatore vivente con tecnica robotica si afferma ancora nella nota il GOM ha redatto uno specifico protocollo diagnostico-terapeutico assistenziale istituendo una convenzione con il Centro Trapianti dell'Università di Padova Tutto ciò rientra nell'intensificazione dell'attività di trapianto renale da vivente fortemente voluta dalla direzione del GOM che ha dato un nuovo avvio con i due casi dello scorso luglio dopo uno stop di alcuni anni che ha il preciso scopo di dare risposte più efficaci ed evolute alle persone affette da malattia renale cronica per le quali il trapianto è l'unica prospettiva terapeutica PNRR Ferro da governo impegna a sostenere segretari comunali da parte del governo Meloni c'è un forte impegno per dare supporto ai piccoli comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR in particolare per sostenere gli oneri relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali e quanto afferma il sottosegretario all'interno Vandaferro delegata al Dipartimento Affari Interni e Territoriali dopo la pubblicazione dal DPCM del primo maggio che definisce i criteri di riparto delle risorse del PNRR da 30 milioni di euro annui fino al 2026 tra i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e l'iter per l'erogazione delle risorse da destinare anche all'attività di supporto tecnico i comuni interessati aggiunge il sottosegretario Ferro possono presentare istanze in modalità digitale sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica lo stesso Dipartimento stilerà una gradatoria che permetterà di attribuire alle amministrazioni il sostegno per i segretari comunali quantificato in un ammontare pari a 40.000 euro per ogni annualità dal 2023 e per la durata del PNRR fino al 2026 dando priorità alle amministrazioni più in sofferenza conclude Ferro rilancio dell'ospedale di Soverato il sindaco Vacca accoglie il commissario straordinario dell'ASP Battistini si passa ai fatti per la valorizzazione dell'ospedale di Soverato e l'impegno assunto dal presidente della regione Calabria Roberto Chiuto prende forma nell'incontro realizzato all'interno del comune di Soverato tra il commissario straordinario dell'ASP di Catanzaro Antonio Battistini e il sindaco Daniele Vacca ieri mattina spiega il sindaco di Soverato ho incontrato il commissario straordinario dell'ASP Antonio Battistini il direttore sanitario aziendale Antonio Gallucci e il direttore del settore tecnico patrimoniale Maurizio Benvenuto per discutere della situazione dell'ospedale di Soverato ho avuto l'opportunità di passare in rassegna quelle che sono le problematiche emerse dal costante contatto con i responsabili dei vari reparti del presidio e dalle segnalazioni degli utenti una situazione che continua a essere attenzionata anche dalla regione Calabria in cui si conferma l'impegno del presidente Occhiuto e dell'ASP di Catanzaro il commissario mi ha illustrato il piano di valorizzazione previsto per implementare i servizi all'interno del nosocomio in cui un passo fondamentale sarà fatto nel destinare nuove risorse umane all'interno del nostro ospedale si partirà migliorando i servizi con particolare riguardo a quelli di emergenza e urgenza e quindi del pronto soccorso nel corso dell'incontro si è parlato anche dell'emergenza sanitaria territoriale per cui sono previsti l'impiego di nuovi mezzi e di nuove unità di servizio si sono affrontati quindi aspetti fondamentali per una struttura sanitaria che a breve si confronterà con una richiesta che quadruplica il numero di potenziali ingressi con l'inizio della stagione estiva un impegno che ci rassicura considerando il fatto che a poco tempo dal suo insediamento il generale Battistini ha già provveduto a individuare le figure che avranno la direzione amministrativa e sanitaria delle strutture sanitarie tra cui anche quella soveratese la strutturazione delle diverse componenti aziendali renderà possibile dare concretezza alla risoluzione delle criticità di funzionamento adeguando le risposte alle problematiche segnalate per quanto ci riguarda come amministrazione capo ambito delle politiche sociali continueremo a garantire il nostro contributo per quanto di nostra competenza per potenziare i servizi che ruotano attorno a una struttura che serve a un bacino di utenza ampio di assoluta importanza nella provincia di Catanzaro di cui fanno parte non solo i comuni della fascia costiera ma anche quelli dell'entroterra abbiamo già annunciato a tal proposito nei giorni scorsi che all'interno del nuovo piano parcheggi sarà realizzata in via prioritaria l'area per ampliare lo spazio di sosta a servizi degli utenti dell'ospedale ed ora ci fermiamo per una breve pausa a tra poco Enzo Zofrea nella segreteria provinciale PD la soddisfazione del circolo di Squillace il circolo del PD di Squillace esprime viva soddisfazione per la nomina di Enzo Zofrea quale componente della segreteria provinciale del Partito Democratico con l'importante delega alle riforme e PNRR un riconoscimento questo per il grande lavoro svolto sul territorio di consolidamento e crescita del partito il nostro augurio a Enzo Zofrea è di proseguire il suo impegno con l'umiltà dimostrata in questi anni di chi sa lavorare sodo per il bene collettivo e delle giovani generazioni Regione convocato consiglio per il 22 giugno 6 punti all'ordine del giorno il presidente Filippo Mancuso ha convocato il consiglio regionale per giovedì 22 giugno alle 12 6 punti all'ordine del giorno proposta di legge numero 176 12 l'iniziativa dell'aggiunta regionale recante norme per il mercato del lavoro le politiche attive e l'apprendimento permanente relatore consigliere straface proposta di provvedimento amministrativo numero 124 12 di iniziativa dell'aggiunta regionale recante legge regionale del 5 aprile 2008 numero 8 riordino dell'organizzazione turistica regionale approvazione proposta di piano regionale di sviluppo turistico sostenibile per il triennio 2023-2025 relatore consigliere gentile proposta di legge numero 131 12 di iniziativa dell'aggiunta regionale recante ratifica dell'intesa tra le regioni Calabria Basilicata Campania Puglia e Sicilia in materia di governance del fenomeno migratorio e promozione di politiche di inclusione sociale e lavorativa della popolazione straniera relatore consigliere De Francesco proposta di legge numero 152 12 di iniziativa dei consiglieri regionali mancuso e fedele recante riconoscimento e sostegno del progetto giustizia e umanità liberi di scegliere relatore consigliere straface proposta di legge numero 162 12 di iniziativa dei consiglieri regionali straface gentile gallo recante e riconoscimento del carnevale di Castrovillari relatore consigliere straface proposta di provvedimento amministrativo numero 123 12 di iniziativa dell'aggiunta regionale recante bilancio di previsione 2023 2025 dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della calabria ARPACAL relatore consigliere montuoro manifestazione Movimento 5 Stelle a Roma sul palco anche ex autista calabrese licenziata esporsi significa farsi terra bruciata intorno c'era anche Eldarenna ex autista della società CIMET SPA e per l'occasione portavoce dei 76 colleghi come lei licenziati a Roma alla manifestazione basta vite precarie promossa ieri a Roma dal Movimento 5 Stelle lo riferisce una nota della parlamentare Vittoria Baldino vicepresidente vicario del gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera esporsi in Calabria per difendere semplici diritti previsti dalla nostra bellissima Costituzione ha affermato Eldarenna come riporta nella nota significa farsi terra bruciata intorno per una donna significa essere definita femmina fastidiosa ma né io né i miei colleghi faremo un solo passo indietro abbiamo chiesto aiuto alla Regione Calabria nel nome del Presidente Occhiuto e al Governo centrale non ci hanno dedicato neanche un minuto un Presidente di Regione che non ascolta i propri cittadini dovrebbe solo dimettersi io e i miei colleghi continueremo a lottare per la nostra dignità siamo noi gli unici ha detto ancora che possiamo cambiare il nostro futuro a prescindere dall'età serve il coraggio di alzare la testa di metterci la faccia e di lottare con dignità sul palco a Roma scrive Eldarenna sui social davanti a una platea di oltre 20.000 persone alla fine un sano pianto liberatorio perché questo licenziamento fa ancora male perché attraverso la mia voce parlano i miei colleghi i loro figli le nostre famiglie non faremo un solo passo indietro sciopero del comparto aereo ITA cancella 42 voli possibili disagi anche alla Mezzia ITA Airways ha cancellato 42 voli nazionali per lo sciopero di 24 ore dei lavoratori del comparto aereo aeroportuale e indotto aeroporti proclamato per domani lo si legge sul sito della compagnia aerea ITA Airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni il 50% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero spiega la compagnia sul sito della SACAL si dà comunicazione dello sciopero preannunciando possibili disagi per i viaggiatori antincendio boschivo due settimane di aggiornamento per i vigili del fuoco della Calabria si sono svolte nel periodo dal 31 maggio al 14 giugno 5 giornate tecniche AIB sul tema dell'antincendio boschivo gli eventi voluti dal direttore regionale dei vigili del fuoco Calabria ingegnere Maurizio Lucia ed organizzati dal primo dirigente AIB vigili del fuoco dottore Daniele Tittoni in qualità di responsabili del servizio antincendio boschivo per la direzione regionale dei vigili del fuoco per la Calabria hanno avuto luogo presso i 5 comandi provinciali della regione gli incontri sia in presenza che in videoconferenza sono stati organizzati per standardizzare e sensibilizzare il personale sulla delicata materia dell'antincendio boschivo e hanno coinvolto il personale vigile del fuoco ma anche il personale dell'azienda Calabria Verde a cui la regione Calabria con la legge regionale 25 2013 ha trasferito le funzioni regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché rappresentanze della protezione civile del volontariato e dei consorsi di bonifica durante le giornate informative è stato dato cenno sull'evoluzione del fenomeno degli incendi boschivi con un approfondimento sul quadro normativo e sulle rispettive competenze e funzioni delle istituzioni coinvolte si è proseguito poi ad evidenziare l'importanza dei sistemi informatici e applicativi a supporto delle sale operative degli enti che concorrono nella lotta agli incendi boschivi un approfondimento ha inoltre riguardato il concorso della flotta aerea dello stato e regionale nella lotta attiva agli incendi boschivi e il supporto dei sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto nello stesso contesto l'azienda Calabria Verde ha esplicitato la propria organizzazione illustrando le potenzialità e procedure della struttura di coordinamento in materia di AIB gli incontri si sono conclusi con l'analisi di alcuni casi studio occorsi su territorio calabrese nel corso della stagione estiva AIB 2022 nelle varie sessioni informative dopo i saluti di rito dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco che hanno accolto favorevolmente l'iniziativa rappresentati qualificati dalla direzione regionale dei comandi provinciali hanno relazionato sulle tematiche in programma congiuntemente all'intervento del coordinatore regionale del settore AIB dell'azienda Calabria Verde tutte le giornate informative si sono concluse con un dibattito dove sono state evidenziate le potenzialità e contestualmente le criticità riscontrate dal personale operativo è emersa tra i partecipanti la necessità di un miglior flusso di comunicazione sottolineando l'importanza di un linguaggio comune condiviso con lo scopo di poter meglio dimensionare ed organizzare il complesso sistema di contrasto agli incendi boschivi per la campagna AIB 2023 che vede la regione Calabria e il corpo nazionale dei vigili del fuoco sempre in prima linea il corpo nazionale promuove le attività di formazione e di informazione finalizzate ad accrescere la sinergia tra le forze operanti condividendo con quest'ultime l'obiettivo a tutela della vita umana degli animali e delle cose salvaguardando il territorio calabrese dal rischio degli incendi boschivi Amaroni il sogno della 22enne Alessandra da modella a pattern maker da modella è stata vincitrice regionale del concorso nazionale di bellezza Miss Informissima 2018 a Rimini ha partecipato al defile anche internazionali e corsi di fotografia oggi sta compiendo i primi passi nel mondo della moda con il sogno di diventare una pattern maker cioè modellista di abbigliamento la figura che trasforma le idee degli stilisti nei vestiti da indossare in passerella Alessandra Esposito ha 22 anni ed è originaria da Maroni quest'anno terminerà il suo percorso triennale di studi con la laurea dell'istituto secoli nel corso fashion design modellistica e sartoria donna a Milano dopo aver conseguito il diploma di tecnico sistema moda all'istituto tecnico tecnologico Chimirri di Catanzaro nei giorni scorsi la prima sfilata che porta la sua firma al secoli fashion show 2023 l'evento più atteso dei fashion designer dell'istituto che rappresenta il trampolino di lancio nel mondo della moda e offre loro l'opportunità di mostrare per la prima volta al pubblico le loro creazioni l'outfit creato da Alessandra è stato apprezzato e lascia ben sperare per la sua carriera nell'affascinante mondo del fashion sono riconosciute peraltro le sue competenze nonostante la giovane età nel campo della modellistica della fashion design e della sartoria dalla costruzione e interpretazione dell'illustrazione stilistica e del disegno tecnico alle conoscenze nel piazzamento e taglio del tessuto dall'attitudine nella ricerca di tendenze per lo sviluppo creativo di una collezione d'abbigliamento donna alla capacità di disegno manuale e realizzazione di rispettivi disegni tecnici dalla prototipa del capo fino alla realizzazione del prodotto finito e poi consapevolezze nella gestione del dietro le quinte degli eventi sfilata maturata tramite esperienze lavorative corsi scolastici nonché conoscenza nell'organizzazione aziendale passione e determinazione ci sono e il sogno di Alessandra certamente si realizzerà grazie a tutti grazie a tutti